Sapevi che esistono almeno quattro tipologie di accordi di settima? Accordi maggiori ma con la settima minore, o accordi di dominante. Suono piuttosto spigoloso, molto usati nel blues e nel funk. Accordi maggiori e con la settima maggiore, i major seven. Ma hanno veramente un suono etereo e sognante. Accordi minori e con la settima minore, i minor seven. Molto usati anche in alcuni brani famosi. Infine i minori ma con la settima maggiore. Beh sicuramente i meno utilizzati ma un suono sofisticato e affascinante. Su lezionechitarra.it trovi la lezione completa, l'ho spartito da scaricare gratuitamente e i miei corsi online. Link in bio o in descrizione del video. Ciao!